salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video oggi 1T un off topic per questo video volevo parlare brevemente della serie netflix di one piece perché sono stato molto piacevolmente colpito dopo aver visto in realtà solo due puntate però già mi piace un casino piccola premessa io di one piece non so assolutamente niente ho affrontato questa visione nell'ignoranza più assoluta cioè conosco e so che c'è un manga che c'è un anime che è da 20 anni e chiunque sia un po' nell'ambiente nerd in qualche modo avrà visto delle immagini soprattutto di rufi insomma il protagonista perché insomma è abbastanza iconico però io personalmente non ho mai letto il manga mai visto l'anime e in realtà non sapevo manco cosa fosse il one piece per farvi capire la mia ignoranza però insomma ero curioso anche perché insomma ne stavano parlando un po' tutti bene e sono rimasto veramente super super colpito positivamente da tutti i punti di vista in realtà sia la storia di per sé che ok storia di pirati però con questo con questo flavor molto molto fantasy quindi sì pirati che cercano il tesoro però insomma ci sono anche altre mille mila cose probabilmente che ci saranno dentro perché c'è molto anche di fantasy appunto ma riguardo proprio al prodotto netflix mi è piaciuto veramente tutto almeno in queste prime due puntate mi è piaciuta la fotografia la regia il montaggio la scelta di attori anche il doppiaggio in italiano molto fatto bene il ritmo ho visto queste due puntate quindi due ore quasi sono volate via come niente veramente le ho viste col sorriso sulle labbra quindi sarò contentissimo nei prossimi giorni di finire tutta la prima stagione e sono contento anche perché l'ho letto qualche giorno fa che c'è già in programma perché sta avendo un grandissimo successo la seconda stagione quindi continuiamo poi a vedere cosa succede non ho potuto fare a meno di fare dei collegamenti mentali con i pirati dei caraibi anche se poi andando un po' a studiare scopro che questo manga è del 97 mi sembra e poi l'anime tipo del 98 99 quindi in realtà ben prima di i pirati dei carabbi jack sparrow eccetera eccetera però è palese quindi al contrario come si siano ispirati quelle della disney un pochettino secondo me al personaggio principale e al suo motto di voler essere il migliore dei pirati o qualcosa del genere comunque molto ironico e secondo me poi ditemelo sotto nei commenti perché appunto da ignorante sarai contento anche di leggere dei commenti da gente magari esperta del fumetto dell'anime o del manga c'è qualcosa di guy brush tripod no perché io sto a ripetere che vuole essere il miglior pirata di tutti i tempi mi ricorda un po monkey island ovviamente ma in generale mi è piaciuta proprio l'atmosfera quindi questo vuole essere da una parte scansonato e molto sopra le righe anche appunto perché ci sono questi elementi fantasy di fatto quindi super poteri o comunque poi nemici che anche loro hanno super poteri ed epici scontri finali e in generale questo ambiente sì piratesco che vorrebbe essere simile no alla realtà quindi 1800 1700 1600 ma poi in realtà ci sono tutti questi elementi quasi steampunk oppure iper fantasy che sicuramente in un anime o in un manga magari sono più facile a rendere disegnando in una serie tv un pochino più difficile perché insomma ci vuole tanto budget e bisogna fare bene le cose e nello specifico questo prodotto almeno punto sempre parziale mia opinione due episodi è fatto estremamente bene anche nelle coreografie che non è facile farle di combattimento a volte in questi prodotti sembrano sempre molto molto finte ovviamente sono proprio da action movie ma fatte con grandissima cura e anche dico i dialoghi per quanto leggeri anche se poi ci sono anche delle perle così un po morali qua e là sono estremamente piacevoli e come detto il ritmo è bello fluido insomma sono stato super piacevolmente sorpreso e lo vorrei proprio consigliare soprattutto a chi non sa nulla di one piece a questo punto come me perché sono sicuro che tutti gli appassionati l'avranno visto al day one day zero minuto zero in cui è uscito in realtà è uscito da qualche giorno ma magari altri che non si sono mai interessati di questa opera erano scettici perché magari gli sembrava una cosa un po' così bambinesca fuori sopra le righe un po' così non interessante è molto interessante in realtà fidatevi è un prodotto intrattenimento ben fatto inoltre posso solo immaginare quanta fantasia e idee ci potranno essere proprio per come è costruito il mondo quindi il fatto che comunque i pirati girano e quindi hanno mille avventure e poi ci sono questi elementi super sopranaturali super fantasy queste frutti del demonio che danno poteri che possono variare tantissimo quindi posso solo immaginare che ci saranno tante avventure interessanti e twist e colpi di scena anche perché proprio nel secondo episodio alla fine c'è di fatto un colpo di scena importantissimo già subito anche se non so poi quante stagioni magari vorranno fare perché appunto il prodotto originale manga e anime non è ancora finito più di vent'anni è ancora in corso quindi non è che ha una sua conclusione quindi poi non so che linea narrativa vorranno prendere per la serie tv specificatamente magari si inventano un finale in qualche modo o vanno a sentimento chi lo sa anche perché netflix fa così fa durare le serie finché va bene poi se magari hanno un minimo sentore che non va più bene rischiano anche di tagliarle senza dare nessun finale ma non credo se mantengono questa qualità che secondo me c'è non credo che finirà male ecco male che vada gli daranno un finale così originale giusto per dare una fine poi alla serie comunque ragazzi così un off topic totale a sentimento totale questo video proprio dopo aver visto questi due episodi fatemi sapere se lo avete visto magari tutto già voi sono sicuro che molti l'hanno già finita la prima stagione come vi è sembrata e soprattutto anche il giudizio chiaramente di quelli appassionati che ovviamente faranno tutti i riferimenti precisi a passaggi personaggi che sono uguali o non uguali oppure le ambientazioni o le storie sono esattamente le stesse oppure no ditemi come vi è sembrato a voi io comunque nel dubbio e nell'ignoranza a tutti lo consiglio molto intrattenente detto questo ragazzi chiudo quel video noi ci becchiamo prossimamente per altri video sui videogiochi questo è veramente un off topic che faccio una volta ogni tanto voi comunque statemi sempre bene ciao ciao